È arrivato il giorno della protesta per gli ambulatori privati accreditati. Oggi, infatti, le varie strutture calabresi si sono ritrovate a partire dalle 10 a Catanzaro, presso Palazzo Alemanni, per manifestare contro i tagli stabiliti nei decreti del commissario Scura. Serrata totale delle strutture che, sebbene abbiano già incassato il sostegno di Lioverio, che pochi giorni fa ha ribadito la sua preoccupazione per le ulteriori ricadute negative che questo problema avrà sull'intero sistema sanitario regionale, restano ancora in lotta per gli annunciati tagli al budget. Una storia infinita, fatti di continui ricorsi e denunce alle autorità competenti. Una storia che comincia con il Decreto 128 del novembre 2017, con cui Scura ha operato un taglio di 13 milioni di euro, non per l'anno successivo, ma per l'anno stesso. E così, a novembre, quindi ad anno ormai chiuso, i laboratori si sono trovati con un budget decurtato. I vari ricorsi al TAR che il decreto ha generato hanno disposto alla sospensione dello stesso, in attesa di una pronuncia da parte dei giudici. Ma c'è dell'altro. A inizio 2018, Scura ha invitato le strutture alla firma dei nuovi contratti, in cui però c'era una clausola che stabiliva la rinuncia a qualsiasi procedimento giudiziario o contenzioso relativo alla questione. Dopo un primo rifiuto delle ASP, Scura le ha nuovamente invitate a procedere alla convocazione o, in caso contrario, ad attivare le procedure di sospensione degli accreditamenti per l'anno 2017. A questo punto, le associazioni hanno presentato denuncia alla Guardia di Finanza di Catanzaro, Reggio e Cosenza per tentata estorsione. Accanto a quelli del 2017, ci sono però anche i decreti 70 e 72 a preoccupare, in quanto dispongono di ulteriori tagli per il 2018 sulle risorse disponibili. A essere decurtato sarebbe circa il 40% dell'offerta sanitaria e su 3.200 posti di lavoro quasi la metà sarebbe a rischio. In attesa dunque che il Tar si pronunci il 12 aprile, Anisap, Feder e la Beasa hanno chiesto al prefetto un tavolo di mediazione.